Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha partecipato alla prima giornata della tredicesima edizione del premio nazionale di cultura Benedetto Croce. L'appuntamento è stato dedicato al cinquantesimo anniversario del 1968, anno in cui le contestazioni e i movimenti di massa hanno fatto sentire la propria voce, con un convegno dal titolo a 50 anni dal 68 caduto per sbaglio sui nostri vent'anni. Tanti i temi interessanti emersi durante un vivace dibattito al quale ha partecipato anche il giornalista Giampiero Mughini. Io nel mio intervento di salute istituzionale ho accennato facendo un po' un panorama di ciò che accadeva intorno agli anni 68 un po' in tutto il mondo. Solo per dire che quello era un momento che interessava l'intero globo dove ci doveva essere per forza un motivo, un filo conduttore che accomunava soprattutto i giovani, gli studenti verso una protesta, ma una protesta non violenta anche se accaddero fatti atroci, fatti anche di gente che morì per l'ideale della libertà, per migliorare la propria condizione di vita. Ogni paese ha una sua dinamica, ha una sua vicenda, una sua mappa. La questione della libertà in realtà non è così semplice perché in molti erano assertori della libertà delle proprie idee, ma niente affatto della libertà delle idee diverse opposte alle loro. Ecco questo è un punto da ricordare. Comunque certo ci mancherebbe altro, era tutto il mondo e per questo ancora oggi ne parliamo, ne parliamo con passione mi pare. Evviva!